Emergenza Covid-19, il punto sulle vaccinazioni. Il presidente della regione toscana, Eugenio Gianni. Torna al giro ciclistico del Val d'Arno. Si correrà lunedì 6 settembre la 43esima edizione, tutta nel segno della ripartenza. Covid-19, il presidente Eugenio Gianni ha stilato il punto sulle vaccinazioni in Toscana. Lo scopo adesso è l'immunità di grigie entro la fine di settembre. In questo momento la Toscana rappresenta un punto di riferimento. Siamo la quinta regione italiana per maggior numero di vaccini in prima dose. Sapete che la prima dose è poi quella che fa Green Pass, è quella davvero importante. L'essere i quinti sulle 20 regioni italiane mi dà la soddisfazione di vedere una campagna di vaccinazione che ha portato in questo momento a coprire con prima dose 2 milioni e 600 mila dei nostri abitanti. Sappiamo che la Toscana è una regione di 3 milioni e 6 circa, quindi manca un milione di persone, cittadini, che non sono vaccinati. Di questi circa la metà chiaramente è invaccinabile, ovvero i bambini dai 0 a 12 anni che non possono avere la vaccinazione. Un altro 100-150 mila sono le persone che non possono essere vaccinate per motivi di salute, ovvero per quelle che sono le situazioni di patologie che impediscono la vaccinazione. Noi ancora abbiamo da vaccinare sostanzialmente un 350-400 mila persone, di questi almeno 150 mila si sono prenotati, quindi vi è quell'area che a questo punto identifico con un'area di circa 300-350 mila persone che devono vaccinarsi. Alcune non lo hanno fatto un po' per prichizia, altre per scelte. Noi su queste persone ci concentreremo a fondo. Seguono l'esempio dei nostri giovani. Una fascia che è da poco che si vaccina ma che ci sta dando grande soddisfazione, sono proprio quella fascia dai 18 ai 30 anni in cui noi fra vaccinati e prenotati siamo al 90%. Noi lo faremo con il consenso, con la persuasione, fino al termine che ci siamo dati per arrivare all'immunità di Grecia, per farci passare dall'attuale 73% al 80% dei vaccinati prima dose e ce lo siamo proposto per la fine del mese di settembre. Dopo la fine del mese di settembre tireremo le somme e sicuramente oltre agli operatori sanitari su cui seguiranno le sanzioni previste dalla legge, noi saremo particolarmente forti nella persuasione degli altri perché una comunità come la nostra non si può permettere di vedere circolare il virus per la pigrizia di chi non si è vaccinato. Torna al giro ciclistico del Val d'Arno tutto nel segno della ripartenza dopo un anno di stop dovuto alla pandemia. L'edizione numero 43 della gara ciclistica per dilettanti categorie Elite e Under 23, che si disputerà il 6 settembre, è stata presentata giovedì 26 agosto a Palazzo del Pegaso. Si correrà per la prima volta di lunedì e non come da tradizione il martedì. Una manifestazione organizzata dal gruppo sportivo Nuovo Pedale Figlinese con il patrocinio del Consiglio regionale della Toscana che assicura anche un contributo economico alla manifestazione. La corsa si svilupperà su un percorso di circa 175 chilometri e si attendono come sempre le imprese di ragazzi che presto potrebbero diventare protagonisti del grande ciclismo dei prossimi anni. È una competizione ciclistica di grande valore e rivela da sempre quelli che sono i talenti che poi emergono. Dimentichiamoci quando nel 1991 la vinse Michele Bartoli che qualche anno dopo ci portò a vincere il Giro d'Italia. Oppure pensiamo a occasioni nelle quali Popovic oppure lo stesso Masnada e prima di lui Bontempi è una delle manifestazioni nazionali che ci aiutano a vivere quello che può essere la promessa del ciclismo in Italia. Noi ne abbiamo profondamente bisogno. Vi è poi un legame personale da parte mia quando nel 2017 mi trovai a vivere l'esperienza di partecipare con l'ammiraglia a vivere quello che è il percorso. Allora vinse Caravagli è un percorso di grandissimo fascino perché ci porta in tutte le strade più significative da un punto di vista sportivo e di bellezza paesistica del Val d'Arno. E devo dire che è stata un'emozione per me che mi rende molto legato a questa che è una corsa che è simbolica in Toscana nella ripresa di attività a settembre. Noi siamo la terra del ciclismo come sport popolare. Siamo la terra di Bartoli, di Mencini e dei campioni dei tempi nostri. Pensate a Bettini, a Cipollini. Tanti atleti che in qualche modo hanno portato il ciclismo a essere sentito come lo sport più popolare. Lo sport del contatto con il grande atleta, con la gente, proprio magari passando una borraccia dal bordo di una strada. E penso che in un territorio così bello, significativo come quello del Val d'Arno, dove c'è tanti appassionati, e voglio ringraziare il gruppo sportivo che organizza il nuovo Pedale Figlinese, si ricorda e si riporta lo sport ad essere una delle attività più vicine alla gente. Sono davvero felice di poter ospitare qui questa presentazione a pochi giorni da questo importante evento. Un evento che, come un po' lo spirito che abbiamo lanciato in questa consigliatura della nuova Assemblea Legislativa, è quella di guardare al futuro, di puntare sui giovani, di investire su quelli che saranno i talenti. Tanti importanti ciclisti che poi hanno fatto la storia di questo sport, hanno partecipato e si sono aggiudicati questa importante manifestazione. L'abbiamo voluto fare qui insieme, ringrazio il collega Benucci per avercela presentata, sono contento che anche il Presidente Gianni ci sia. Dà il senso esattamente dell'importanza che ha lo sport per noi, l'importanza che abbiamo voluto dare anche mettendo risorse, per la prima volta 10 milioni di euro in questa direzione, e un grazie agli organizzatori. Non era scontato, l'anno scorso non è stata effettuata, non è semplice, le misure di sicurezza sono sempre tante da dover mantenere, lo sforzo organizzativo è stato ancora più grande, quindi ancora di più un grazie di cuore e sincero per l'impegno che ci hanno messo e sono certo che sarà una bellissima giornata di sport. L'organizzazione è stata lavoriosa perché, come si è detto, in questa pandemia ci sono un sacco di regole, un sacco di fogli da dover riempire, firmare, presentare, se tutto è in regola o se tutto non è in regola. Infatti abbiamo dovuto spostare l'arrivo, non sarà più in piazza Marsilio Ficino come di solito era per 43 anni, ma lo abbiamo fatto al campeggio, campeggio girasole club, quindi fuori dal paese, fuori da tante regole, diciamo, ecco, è in campagna, diciamo, è un arrivo in campagna, è un arrivo in salita, il percorso è cambiato sempre perché non siamo potuti passare più dal centro storico, ma facciamo 11 giri dal campeggio, quindi sotto l'arrivo passiamo 11 volte. L'inizio è incisa con i classici 4 giri da casa Petrarca e poi il finale è lì nel circuito campeggio Figline di 12 chilometri. Noi a oggi abbiamo già 160 iscritti con un totale di 30 squadre, 30 squadre hanno già aderito, stiamo aspettando la parte finale, insomma, gli ultimi, gli ultimi perché non possiamo partire più di 190 per regolamento e quindi la voglia c'è, io posso fare anche questa dichiarazione, la voglia è anche da parte degli sponsor, non abbiamo trovato di nieghi, anzi, tutti contenti, dice meno male se riparte, meno male ragazzi, poi ce la fa ripartire e questo ci fa piacere. Sì, no, siamo molto contenti perché l'anno scorso è stato un anno in cui abbiamo cercato di ripartire come ciclismo, ce l'abbiamo fatta con le gare individuali, però alcune manifestazioni avevano purtroppo dovuto cedere il passo. Quest'anno avevamo fatto un calendario molto impegnativo, l'abbiamo quasi tutto rispettato e sono contento che il Giro Nazionale del Val d'Arno ce l'abbia fatta, devo ringraziare soprattutto tutto lo staff della società organizzatrice ma anche tutte le autorità che si sono impegnate in questa manifestazione. È una gara delle più importanti, una gara monumento che in Toscana nella categoria Under 23 Elite è una delle più rappresentative, è stata vinta da corridori di altissimo livello, Bartoli, ma anche corridori stranieri tipo Popovic e quindi per me è importante che questa manifestazione si sia realizzata, il 6 sono sicuro che verrà fuori un vincitore di altissimo livello e soprattutto cade anche in un momento del calendario in cui ci si prepara l'europeo che c'è la settimana successiva e poi dopo delle settimane c'è il mondiale quindi sarà un'indicativa che porterà tante indicazioni anche per il commissario tecnico Amadori che sarà presente alla manifestazione. Sì, per noi questa gara è un pezzo della tradizione fondamentale delle feste del perdono ma più in generale proprio del territorio ed è anche un modo per far conoscere il territorio per far conoscere il territorio perché i giovanissimi corridori arrivano da tutta Italia quindi per noi è un'occasione di grande sport e anche, perché no, di promozione. Un appuntamento importantissimo la 43esima edizione che finalmente riparte dopo il necessario salto dell'anno scorso. Siamo molto contenti ed è un segno di ripartenza anche questo molto importante. Un bel segnale che si riparta con questa manifestazione che è una delle più prestigiose in termini sportivi del Val D'Arno. Il Val D'Arno ha una lunga storia di ciclismo che si è sempre manifestata in tante belle manifestazioni. Con la difficoltà e la pandemia tante non sono state fatte ed è bello oggi essere a presentare il 41esimo giro del Val D'Arno che da figline prende le mosse ed è nell'ambito dei festeggiamenti del perdono che sono giornate importanti per tutto il Val D'Arno Fiorentina e Aretino. Vogliamo pensare che questo sia un po' il modo di ripartire anche delle nostre comunità valdarnese che ne hanno tanto bisogno. Un grande ringraziamento al comitato organizzatore perché organizzare le corse di questo livello non è uno scherzo e averlo fatto in questo momento è ancora più complesso e quindi è giusto sostenerli e è giusto anche presentarli in questa cornice che gli dà un respiro ben oltre il Val D'Arno. Da valdarnese io sono leggerlese come sapete non posso che ringraziare il presidente del Consiglio regionale e il presidente della Giunta perché hanno dato lustro alla nostra terra che è una terra che ama lo sport e che si è sempre dedicata alle manifestazioni sportive promuovendone di grande livello quindi davvero è una grande soddisfazione. Grazie a tutti.